Remo è l'ultimo prodotto tecnologico della Corgi, ma a cosa serve? Serve a poter misurare l'assetto ruote in maniera completamente automatica, quindi senza l'intervento dell'operatore, permettendo all'operatore di svolgere altre attività nel frattempo, senza contatto al cerchio, quindi niente staffe, niente parti meccaniche da mettere sulla ruota e in maniera molto precisa. E ora Stefano ci farà vedere come funziona. Grazie a tutti. Grazie a tutti.